Sì, sa paura perché entrano in casa e gli fa paura niente. Rabbia e preoccupazione tra i residenti di Lepogiola, frazione alle porte di Arezzo, nell'ultime settimane nelle mire di una banda di malviventi. In questa piccola frazione infatti si è verificata una vera e propria scia di furti che non sembra trovare fine. I primi colpi sono stati messi a segno una decina di giorni fa, solamente nella notte tra lunedì e martedì l'Adri hanno visitato ben quattro abitazioni. In un caso sono stati addirittura sorpresi con le mani nel sacco dai proprietari di casa che attorno alle tre del mattino, insospettiti da rumori provenienti dal retro dell'abitazione, hanno notato una persona intenta a scassenare la serratura della porta. Non sono riusciti, ci hanno rovinato la porta, ci hanno rovinato la rete. Più che altro è quello che ti lascia, le esperienze. Ti lascia paura, timore. Ovviamente a quel punto i banditi si sono dati alla fuga, ma alcuni minuti dopo, a pochi metri di distanza, altre abitazioni sono state saccheggiate. Mentre la polizia era qui intorno, si sono lanciati verso quelle case lassù. A preoccupare i residenti, inoltre anche uno strano particolare, i cani della zona sembra non abbiano mai abbaiato, nonostante le numerose incursioni notturne. Nessuno è riuscita a bagliare dei cani. E' riuscita a trasuoni che probabilmente si portano dietro. Sulla vicenda stanno cercando di far chiarezza gli agenti della polizia che hanno raccolto le testimonianze dei residenti e avviato le indagini. Stanotte hanno rubato borzelli, borse che poi sono state ritrovate nei vari campi qui intorno, ovviamente ripuliti di tutto quello che c'era dentro. Però insomma è angosciante.